Complimenti a voi che state facendo una manifestazione importante, sicuramente ricordando un uomo straordinario, importantissimo, un uomo veramente speciale su tutti gli aspetti e questo rende merito a lui che ha fatto una carriera grandissima e quindi complimenti davvero alla vostra organizzazione e alla vostra manifestazione. Il saluto del grande Paolo Rossi ha dato il via ufficiale alla seconda edizione di Gola Grappoli, Kermet sportiva per calciofili affini. Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno, gli organizzatori hanno immediatamente oliato la macchina per portare in porto anche questa. Venerdì 10 e sabato 11 giugno 2011, Cormons, provincia di Gorizia, sarà la capitale del calcio italiano. Grandi nomi saranno presenti alla manifestazione. Da Gianni Rivera, che taglierà il nastro venerdì 10, a Eddie Reia, tecnico della Lazio e vincitore del premio Enzo Berzot per l'ottima annata alla guida dei Bianco Celesti, il quale ha saputo trasmettere i veri e sani principi e valori della nostra terra. Ci saranno azzurri di ieri come Antonio Valentino Angelillo, uno degli angeli della faccia sporca, detentore del record di marcatura in una sola stagione in Serie A, 33 reti, correva l'anno 58-59. Mariolino Corso, il sinistro di Dio, inventore della punizione a foglia morta. Cersei Cosmi, tecnico Umbro con un passato da giocatore nella Cormonese ed ex tecnico dell'Udinese. Marco Materazzi, campione del mondo a Germania 2006, infine al grande Dino Zoff, a presentare l'evento Bruno Pizzul. Tante sorprese sono in programma in questa due giorni full immersion nello sport più amato e praticato nel paese della pedata. Azzurri, bianchi, rossi e verdi, 101 anni carichi di azzurro.